Allora, Bino Pinalino, siamo a una svolta importante per quanto riguarda il campionato, questa sfida è importante contro Offida questo weekend. Con quale spirito ci andate, ma soprattutto anche per riscattarli dopo la sconfitta in terra marchigiana? Sì, stiamo preparando questa partita per sabato e speriamo che ci sia riscatto da parte delle ragazze, dopo un 3-0 fatto a Cordonia in quella maniera. e stiamo cercando di prepararci al meglio per affrontare un'ottima squadra. Senti, Bino, cos'è mancato nella sconfitta della settimana scorsa? È mancato un po' tutto, è mancato sia dal punto di vista tecnico, sia una preparazione mentale alla partita, non abbiamo visto il vero Cerignola che avevamo visto nelle altre settimane. Senti, Offida come te l'aspetti? Offida è una bella squadra, è una squadra completa, ottimi attaccanti, ottimi recettori, però noi ci stiamo preparando perché dobbiamo fare la nostra partita. Grazie Grazie a voi